con francesco simonetti in sala stampa al termine della pari contro il castrovillari francesco un risultato che non rispecchia sostanzialmente quanto si è visto nell'arco dei 90 minuti di gioco sì ci tenevamo tantissimo a fare bene abbiamo preparato la partita così come ce l'aspettavamo abbiamo preso un gol su una disattenzione nostra generale non parlo solo solo a livello livello difensivo ne ho perso palla in quando ce l'avevamo e poi abbiamo concesso la forse l'unica occasione da gol del castrovillari però ci tengo a sottolineare il grande spirito la grande voglia e grande sacrificio l'abnegazione di questa di questa squadra perché non ha mollato era era più facile sgredolarsi invece è rimasta lì compatta vogliosa e alla fine secondo me abbiamo abbiamo raggiunto questo pari che è strameritato francesco è una polisportiva a santa maria che crea tanto però poi al primo errore praticamente viene viene punita sì nelle ultime uscite abbiamo creato diverse azioni da gol e non siamo riusciti a capitalizzarle magari in passato riuscirà riusciremo a capitalizzare magari quelle pochissime occasioni da gol come è successo in in qualche in qualche partita arriveranno sicuramente periodi migliori e più e più fortunati l'importante e lavorare l'importante e crederci e l'importante e non mollare mai e rimanere su su questa scia e mettere mattoncino su mattoncino per arrivare quanto prima all'obiettivo grazie mille francesco in bocca al lupo arrivederci